buongiorno a tutti volevo ringraziare il centro macchiavelli per questa occasione di dibattito su uno dei temi fondamentali per la sicurezza del paese e l'università link per questa ospitalità io sono gianluca di feo giornalista di repubblica mi sono occupato part time di conflitti e sicurezza dal 1990 cioè dall'invasione del curaio da parte di saddam ossen all'epoca val corriere della sera adesso da un anno mi occupa tempo pieno di questa materia però in questo nostro appuntamento avete la possibilità di sentire persone che hanno competenze e capacità sicuramente superiore le mie in particolar modo lorenzo cesa che tutti conoscete che è un parlamentare di lunghissimo corso e che adesso è il presidente della delegazione parlamentare italiana presso la nato il e poi gianandrea gaiani che ha competenze note a chiunque abbia l'occasione di leggere analisi di difesa che è stata una delle prime realtà che hanno saputo sfruttare la potenzialità del web per divulgare cultura della difesa e in più vi conosco che lui oltre ad avere una divulgazione tecnica negli articoli che ospita spesso di una precisione che è incredibile con un livello di dettaglio di alcuni suoi collaboratori che io copio spesso mantiene con i suoi editoriali una visione politica e un'incidenza su quelle che sono tutti i temi del momento contemporaneo e che nella pubblicistica italiana è abbastanza una cosa rara perché in genere si trova o l'uno o l'altro invece qualcosa che abbia io ho iniziato a leggere le riviste militari rubandole dalla valigia mio padre ai tempi di eserciti e armi eh riviste che sono estinte credo dalla seconda metà degli anni settanta quindi sono caduto nella botte da piccolo come Asterix mi permetto di fare come Robelix mi permetto di fare qualche giudizio ecco il tema di quello che noi dobbiamo parlare cioè gli scenari geopolitici che oggi abbiamo di fronte e francamente voi avete visto quando ci sono quelle fiction d'azione quei film d'azione e ci sono quelle parti speciali che dicono bisogna essere pronti al peggiore scenario possibile noi oggi abbiamo tutti i peggiori scenari possibili contemporaneamente e per ri agganciarmi a quella citazione di Machiavelli che ha fatto generare prima e la tempesta noi oggi abbiamo la tempesta perfetta perché noi abbiamo una quantità di situazioni in atto che sono terribili che si sono sviluppate rapidamente nell'arco di due anni e una quantità di situazioni potenziali o future che sono veramente un incubo cioè io mi sveglio ogni tanto e dico no un'altra cosa da seguire un altro scenario di paura perché noi abbiamo veramente qualcosa che è incredibile rispetto a ciò che abbiamo vissuto il generale citava prima gli studenti del 2020 gli allievi del 2020 che non erano mai saliti in un cavo armato in effetti tutti si sono dimenticati dell'esistenza dei cavi armati e anche all'esercito ne erano rimasti veramente pochini ma chi pensava che servissero i cavi armati cioè dalla fine della guerra fredda noi siamo andati in somalia con degli m60 prestati dai marini se non li abbiamo trasportati ci hanno dati lì e li abbiamo usati una sorta di renting cioè non è tipo quando uno prende la macchina a noleggio e noi fortunatamente ci hanno noleggiato degli m60 e poi su intervento della presidenza della repubblica dopo l'assedio della cpa a nasseria quando non si sapeva come tirare fuori quelli assediati nel centro di nasseria mandammo gli aviete a nasseria dove rimasero per un periodo e non credo che abbiano fatto azione a fuoco l'unica azione a fuoco che fece l'amico regge l'autorevole caiani erano state fatte dalle centauro che sono state le protagoniste della nostra missione in fondo c'erano il cannone ma erano paura non davano l'idea che andavamo in guerra mentre invece i dardo in afghanistan cosa che nessuno ha mai raccontato perché purtroppo e prima ha detto giustamente daniele scalea bisogna eliminare il divario che si è creato tra forze armate e paese dopo la fine della leva la leva permetteva a tutti di sapere cos'è una forza armata è una forza armata numericamente grandissime piene di che aveva armati di tutto ma oggi abbiamo forze armate con un livello di professionalità enorme noi l'unica pubblica amministrazione che può interamente lavorare in inglese ai massimi standard internazionali trovate meno un'altra però non le raccontiamo l'afghanistan non è stato raccontato generale battisti scrisse un bel libro all'inizio della sua missione poi la missione si è voluta con azione 6.000 uomini nessuno ha mai detto che lì i dardo ci sono stati facevano mentoring e cioè accompagnavano gli allievi afghani a fare i corsi e in realtà hanno sparato una quantità di munizioni tali che ogni volta io leggevo i contratti con cui venivano aggiornati gli acquisti perché erano finite le munizioni quindi era delle elezioni molto molto intense ecco quelle che hanno condotto i dardo lì però tutte cose che agli italiani non sono state raccontate allora quando ci si lamenta e si dice gli italiani non sanno ok c'è una mancanza di volontà politica che è uno dei punti che vorrei toccare e cercherò di non sfiorare nei tempi che in realtà ho già sfiorato in questa introduzione perché oggi in questa tempesta perfetta noi dobbiamo fare i conti con un disinteresse della società e con io la definisco a livello di tutto l'occidente una inadeguatezza dei leader citando il simbolo del centro macchiavelli io non vedo né leoni né volpi allora noi abbiamo degli autocrati termine che non mi piace molto ma chiamare dittatori alcuni si arrabbiano come fece erdogan quando draghi lo chiamò così che però hanno una grandissima esperienza perché sono al potere da tanti tanti anni hanno modellato i loro paesi sotto se stessi e sono dittatori che hanno capito la lezione del consenso e quindi sanno costruire delle fasce sociali che sono con loro perché putin la gente che l'ha votato in buona parte ci credeva è vero che non c'è una grande alternative però esiste un consenso in russia per quello che sta facendo e lo costruisce con macchine di propaganda che sono fantastiche che vengono anche da noi questa inadeguatezza di leader si sposa con un disinteresse della società perché come la battuta sono convinto che fosse una battuta della tenente che si lamentava per il casco però immaginate quanti dei nostri figli sarebbero in grado di resistere in una trincea del donbass a dicembre anche senza che nessuno gli spari addosso anche soltanto come resistenza fisica io sono sorpreso nelle ultime feste di forza armata dal numero di militari e sono militari professionisti non di leva che svengono per carità la routine di quelle feste è pesante ma c'è qualcosa che non funziona perché se sono militari di mestiere la resistenza fisica dovrebbe essere il presupposto fondamentale quelli di leva non lo facevano che cosa gli succedeva li minacciavate ora non c'è nei sindacati può darsi quello che noi vediamo intorno al nostro mondo richiede mediazione santa mediazione che sembra scomparsa o estinta erasmo da rotterdam parlava del vilipendio della pace c'è un libro meraviglioso che consiglio a tutti di leggere in cui la pace alla fine del quattrocento bussava a tutte le porte perché sentiva che in europa l'introduzione dell'artiglieria stava creando delle guerre mai viste prima come oggi l'intelligenza artificiale e i droni stanno per crearla nel nostro mondo e tutti mandavano a quel paese la pace a partire dai prelati mediazione deterrenza capacità di dare una risposta che blocchi il conflitto e se necessario il conflitto ormai vediamo che è una necessità questo richiede volontà e capacità volontà della dirci politica che però senta il paese e capacità dello strumento militare oggi i cavarmati non ci sono stiamo cercando di metterli tutti in fila ce l'ha detto il generale con grandissima chiarezza di quello che è la sofferenza nel vedere quello strumento è stato completamente limitato abbiamo delle forze armate modellate su un tipo di missione che sono le missioni di pace che purtroppo come missioni di pace c'è poco da fare adesso anche se ci sono tante crisi in cui possiamo giocare un ruolo e appunto velocemente le crisi ucraina la vedete tutti ogni giorno quello che è iniziato adesso non c'entra nulla con quello che sta avvenendo semplicemente nei modi di combattere quello che sta avvenendo lì sul fronte tante di quelle slide diciamo stato generale lì hanno trovato risposta e anche hanno trovato già un passo oltre ma la questione è l'abbattimento delle linee rosse questa corsa del conflitto io personalmente sono per un sostegno senza se senza ma l'ucraina ma non posso non preoccuparmi e gaiani leggo nei suoi editoriali perché io li leggo sempre ancora più diciamo diverso più accanito accanito nel discuterle però signori a me fa paura nucleare perché nucleare c'è ancora è un'altra delle cose di cui ci siamo dimenticati e la facilità con cui oggi si parla di nucleare l'assenza di quella classe dirigente perché chi ha gestito la crisi di cuba aveva vissuto la sondagoria mondiale kennedy era stato alla deriva nell'oceano nell'oceano su una relitto della sua moto vedetta aveva avuto il fratello esploso in volo mentre sperimentava un'arma inedita un aereo destinato a distruggere dighe e kushoff aveva guidato stalingrado sapeva di che cosa parlava quando arriva davanti la prospettiva della distruzione oggi abbiamo dimenticato quali sono gli effetti della guerra e le immagini dell'ucraina le immagini gaza ancora non ci stanno facendo sentire quel vivido proprio perché il bombardamento di immagine ce lo fa sembrare come un film come una cosa lontana bisogna parlare con qualcuno cioè io ho visto ufficiali della marina ufficiali medici della marina in lacrime perché avevano assistito i bambini che erano vissuti a gaza e quello che raccontavano gli sguardi di quei bambini le foto che ho visto è il manifesto contro la guerra più importante che possa esserci appunto gaza israele ha reagito a un qualcosa di orribile come il 7 ottobre io temo che il modo in cui è stata gestita quella reazione ci darà una generazione d'odio e una generazione di terrorismo violenza che ancora non sta nascendo però c'è il libano e qui entriamo le crisi potenziali io ho scommesso e spero di sperdere la scommessa che entro le strade ci stava il libano e sbolla significa dieci cento volte amas come capacità militare come arsenali come esperienza amas e sbolla ai veterani al combattimento del conflitto siriano che israele non ha israele non ha più veterani perché l'ultima guerra è stata nel 2006 e si è visto comunque in gestione operativa di gaza cina taiwan cina taiwan vediamo ogni giorno cos'è è il futuro quanto è prossimo quel futuro non lo so ma anche noi seppur non capisco perché il governo non lo vuole comunicare ci stiamo attrezzando per quello scenario e la portaria di cavour è entrata nell'oceano indiano ieri il comandante della portaria zenauer ha mostrato le foto della cavour della zenauer che fanno manovre assieme nell'oceano indiano in questa croceva di proiezione destinata ad andare in indo-pacifico ho letto anche da gagliani che anche il comandante dell'aeronautica ha annunciato che manderemo ben 25 anni da combattimento in australia per provare il riti spiegamento nell'indo-pacifico quindi l'italia i militari italiani si preparano a avere un ruolo nell'indo-pacifico e quindi se succede qualcosa probabilmente ci saremo anche noi ma ancora più preoccupante e chiudo è il sail guardate il sail non è lontano noi pensiamo a lì il deserto il sail è dietro l'angolo i tre paesi che hanno fatto i colpi di stato e che hanno cacciato le forze occidentali sono alle prese con una insurrezione islamica che è fortissima e questa insurrezione islamica i consiglieri russi e le armi vecchie che gli portano i russi non la sanno fermare tant'è che in maniera molto discreta queste nazioni stanno chiamando i turchi stanno comprando armi turche droni turchi però lì il rischio che ci sia un'insurrezione islamica un nuovo califato che si prenda il controllo di quei paesi e da lì vada a contagiarci la libia situazione risolta il sudan situazione risolta la tunisia situazione risolta e quindi ci troviamo a casa allora l'italia mantiene una presenza simbolica in niger sta cercando di fare del niger il punto di partenza del piano mattei molto punto di partenza però credo sia saccosanto stiamo facendo noi tedeschi perché lì c'è un pericolo che ci può toccare direttamente se ne parla poco nulla c'è un interesse su questi temi si sapere quanti cavarmati abbiamo è diventato una cosa che la gente dopo l'ucraina se lo chiede così come si chiede se abbiamo i missili contrari o tante cose che si erano dimenticate però appunto la situazione è da tempesta perfetta c'è bisogno di una consapevolezza diffusa e qualificata su questi problemi perché altrimenti il decisore non ne sente il bisogno nella campagna elettorale italiana di queste cose si è parlato adesso per l'europea si è parlato poco o nulla in quelle straniere forse per la la nuova assertività di macron sono stati temi più centrali ma anche in germania con questa uscita dei verdi che hanno cambiato completamente posizione eppure questi temi ci condizionano la gente non ci pensava quando ho visto gli uti ha incominciato a capire qualcosa e ancora nonostante la scorsa settimana gli uti abbiano colpito due mercantili gli hanno danneggiati non affondati e cercato di colpirne anche due italiani sono stati fermati dalla fasana l'ha detto ieri il capo di stato maggiore della marina nella giornata della marina e quindi gli uti continuino praticamente da ottobre a tirare missili e droni fregandosene del più grande schieramento di forze navali dei paesi più potenti e più tecnologicamente avanzati e quindi questi signori in ciabatte dimostrano una capacità di condurre conflitti veramente stupefacente quello no how se domani si trasmetterà al signore di tobruck e lo userà per fare sul canale di sicilia le stesse cose che accadono nel mar rosso noi che facciamo e se la stessa cosa verrà fatta ad un altro signore del controllo uno stretto quanto prezzo paghiamo perché altra cosa che stiamo riscoprendo oggi parliamo di mezzi terrestri ma noi abbiamo il mare le merci ci arrivano via mare e paghiamo un prezzo più alto di tutti gli altri quindi i temi che ci sono richiedono una grandissima attenzione un grandissimo dibattito politico ed è molto importante che ci siano momenti di riflessione come questo passo la parola a lorenzo cesa che contrariamente a me che le cose le racconto e le scrivo ha partecipato a deciderle nel corso di tante legislature grazie 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 intanto amico picchi al centro macchiavelli per l'invito grazie alla link diversi di bellissima università anche un punto di riferimento proprio per questi argomenti di cui stiamo trattando oggi da qualche anno per fortuna no abbiamo qui in questa città anche qualcuno che se ne occupi in maniera più serie ecco ho ascoltato con molta attenzione grazie sotto capo di stato maggiore dell'esercito con molta attenzione la sua relazione ma quello che ha detto di feo e veniamo un po alle alle e di feo sollevavate le questioni di fondo le questioni politiche molto serie allora parlare di difesa parlare di nato è complicatissimo cioè lo dico no e perché io da dieci mesi giuseppe ne sa qualcosa ci siamo visti proprio appena nominato una sera in un incontro organizzato con tutti gli ambasciatori presso la nato no il consiglio europeo ecco il consiglio nato e il consiglio di difesa della della nato consiglio atlantico ci siamo incontrati proprio con la sera in cui fui nominato e nel iniziare il mio lavoro mi sono reso conto di di un problema che era tutto nostro italiano cioè la non non dialogo tra le varie tra le varie diciamo componenti di di chi deve occuparsi della difesa nel nostro paese no e anche all'interno della nato no non dialogo tra le diverse dimensioni che che compongono ad esempio la nato la dimensione parlamentare che è quella che poi ha un dovere enorme poi ti dirò quale quale dovrebbe essere che io cerco di portare anche all'interno del dibattito che c'è nella delegazione nato oggi esistente cioè quindi problema della dimensione parlamentare della nato il problema di quello che fa il governo quindi la parte diciamo dell'esecutivo all'interno della nato quello che fa la parte militare e quello è l'industria della difesa che io vedo presente in maniera importante questa mattina no ecco non ho visto ho notato che non c'è dialogo tra le varie componenti di questa e che invece andrebbe fatto in un momento in cui appunto siamo come diceva De Feo in una tempesta perfetta soprattutto dopo che dopo una data simbolica che il 24 febbraio di due anni fa noi siamo dentro una tempesta perfetta dove le sfide non non è una sola quella dell'Ucraina sono molte di più e sono state tutte dette in maniera puntuale dal dal dottor De Feo no e che vengono discusse all'interno dell'assemblea parlamentare nato dove noi partecipiamo e che riguardano eh varie aree del mondo quindi è Ucraina quindi da parte eh del nove Indo-Pacifico Mediterraneo Africa eh le sfide della cyber security altre sfide a mare eh spazio tutte le cose che vengono discusse all'interno della ma il problema nostro italiano eh parliamoci molto chiaramente parlare di questi argomenti è estremamente delicato e la politica ha il dovere di parlare un linguaggio di verità alla gente questo è il tema di fondo del nostro che fino ad ora non siamo stati in condizione di fare io lo dico in maniera molto precisa e puntuale ogni volta che ci incrociamo ci incontriamo tra la delegazione parlamentare che è composta da tutti i partiti sto cercando di convincere tutti a fare un lavoro anche all'interno del Parlamento per parlare del tema della difesa che dovrebbe essere un patrimonio comune di tutti i partiti dovremmo ammainare ognuno di noi la bandierina di appartenenza al singolo partito perché oggi il tema della difesa è centrale e non possiamo andare avanti con così come se nulla fosse rispetto al passato tenendo peraltro e avendo noi difficoltà anche a rappresentare il nostro paese nelle istituzioni io nato perché ogni volta che noi andiamo ci sollevano il problema della eh del due per cento no? E io cerco di riportare tutte queste preoccupazioni che vengono espresse all'interno della Nato al decisori ancora più importanti ma insomma all'interno della delegazione sicuramente quindi nel dibattito parlamento ma al ministro dell'economia al presidente innanzitutto al presidente del consiglio al ministro della difesa al ministro dell'economia perché non è che possiamo continuare così eh se vogliamo veramente poi eh portare il nostro paese al livello di difesa che sia assolutamente all'altezza delle sfide che oggi i tempi ci richiedono questo eh il lavoro che si sta facendo almeno per quanto mi riguarda all'interno della delegazione Nato è questo cercare di affrontare il tema della difesa sapendo e spiegando bene ai cittadini che cos'è anche la Nato no? C'è stato a Sofia due settimane fa un incontro dell'assemblea parlamentare Nato e avevamo presente anche una delegazione molto importante italiana ma presente in tutti e trentadue paesi per la prima volta la Svezia è presente abbiamo paesi partner presenti no? In cui Stoltenberg è venuto a fatto un discorso estremamente importante ricordando metà del suo discorso è stato dedicato alla parte politica cos'è la Nato? La Nato è pace la pace è eh difesa delle libertà difesa della democrazia dei paesi che ne fanno parte difesa dei cittadini che ne fanno parte ma come lo si ottiene? Attraverso lo strumento della deterenza e la deterenza cos'è? Ascoltato con molta attenzione in generale che ci spiegava qual è la situazione eh del nostro esercito e la ringrazio anzi eh le dico questo che forse sarà importante anche con l'incontro con tutta la delegazione parlamentare per scrivere bene qual è la situazione del nostro paese in modo da convincere maggiormente anche tutti gli appartenenti alla delegazione che un lavoro all'interno del Parlamento debba essere fatto a sostegno anche di un di un incremento di un maggior eh impegno da parte dell'Italia rispetto al raggiungimento anche di quello che ci viene chiesto dalla dalla Nato che è il due per cento quindi il discorso di Stoltenberg è straordinario eh centrato soprattutto sul tema politico di cosa sia oggi la Nato che anche va spiegato davvero ai cittadini del nostro paese naturalmente poi abbiamo affrontato temi concreti cercando di guardare cose che non sempre riusciamo a fare ma noi italiani imponiamo sempre un dibattito in cui si guardi il tema della difesa a trecentosessanta gradi no? Quindi eh e quindi si affronti perché molte volte ci si dimentica del Mediterraneo dell'Africa si parla oggi molto di Indo-Pacifico perché gli americani spiegono molto sugli eh oggi non sapevo della nostra presenza di quello che ci viene chiesto in Australia che ci viene chiesto in termini di presenza eh attraverso la nostra marina attraverso anche nel nell'Indo-Pacifico ma molte volte ci si dimentica del tema del Mediterraneo e il no la nostra funzione è anche quella di come italiani invece di riportare l'attenzione della Nato anche sul tema del Mediterraneo come diceva Diceo abbiamo problemi enormi nel Sahel abbiamo problemi enormi anche a Tunisi anche in Tunisia con cui noi abbiamo rapporti straordinari abbiamo visto quello che è capitato alcune settimane fa presenza di navi di navi russe in in Tunisia eh quindi intervento anche della Nato intervento qualche del governo italiano da quel che so rispetto a questi argomenti ecco quindi cioè quindi allora mh io penso che la politica abbia un dovere davvero eh quello di cercare di far capire all'opinione pubblica che cioè anche avete visto in questa campagna elettorale sull'Europa no molti molti due partiti hanno messo pace pace ma chi è che non vuole la pace cioè lo dice uno che è peraltro un credente che ogni domenica ascolta la media del santo padre che qui a due passi ogni domenica ci ricorda che bisogna di parola ma che con molto realismo facendo politica metto la responsabilità no cerca di riportare la politica anche alla concretezza che serve soprattutto rispetto alle sfide che noi abbiamo questa è la funzione della della la Nato sta lavorando moltissimo se io qua una serie di documenti che hanno affrontato in maniera molto concreta il tema della difesa aerea missilistica droni tena nella difesa sapete che alla spezia noi abbiamo un cerco di un centro di ricerca Nato con 300 ricercatori di altissimo profilo che vedono quello che è altro tema quello che succede negli oceani che succede nelle acque quello che c'è da fare per difenderci no? Eh cioè allora penso che adesso penso che noi dobbiamo veramente cambiare verso e cercare di parlare in linguaggio di verità questo è il tema centrale che noi ci stiamo ponendo voglio parlare ci abbiamo veramente un richiamo continuo al tema del 1 del 2 per cento non possiamo passare dal 1 e 42 all'1 e 38 quest'anno io queste cose le ho detto al presidente del consiglio le ho detto al ministro della difesa le ho detto al ministro dell'economia c'è un problema molto serio di rivedere anche all'interno della Nato eh che la le valutazioni che si fanno nei singoli paesi ho ho capito in questo periodo che sono diverse per cui noi che eh che forniamo siamo il primo paese al livello Nato in termini di fornitura di risorse umane quindi i nostri militari sono il primo noi siamo il primo paese in termini di eh messa a disposizione di eh militari e no? Eh all'interno delle missioni penso che questo argomento debba essere trattato no? Con più serietà ed è devo dire l'argomento molto sentito dai vertici della Nato no? Che ci permettono anche di affrontare le discussioni alla pari con altri paesi che magari oggi investono il 3,8 il 4 eccetera ma adesso è cambiato il mondo dal duemila eh da due anni fa in poi cioè c'è ormai un livello di eh intervento in termini di risorse a sostegno della difesa come è nato che ha superato abbandonatamente il 2% complessivamente ci sono 20 paesi che hanno eh traguardato il il 2% e noi siamo tra il penultimo paese insomma quindi ci dobbiamo assolutamente muovere perché questo significa adeguare maggiormente eh dare disponibilità al a all'esercito italiano di attrezzarsi maggiormente a tutte e eh rispetto anche ai programmi che la Nato si è dato vedo qua eh Giuseppe dottor Mariani tutti quanti il sistema dell'industria di difesa eh stiamo parlando di miliardi di euro che quest'anno saranno avremo un incremento di spese a livello Nato eh molto consistenti che possono riguardare il sistema della difesa italiana che naturalmente deve essere un sistema di difesa molto integrato con gli altri paesi io ho richieste continue nel bilaterale che faccio dei turchi che chiedono di fare dei forum sul sistema della difesa i tedeschi chiedono a noi di fare io riferisco tutto il ministro della difesa ma accolgo anche l'occasione della presenza di esponenti importanti dell'industria della difesa italiana per cercare di fare un lavoro in comune e utilizzare anche la dimensione parlamentare per poter arrivare poi a a traguardare degli obiettivi ecco quindi comunque la sfida della Nato sono sfide estremamente delicate e importanti le ha ricordate Stoltenberg due settimane fa a Sofia eh non c'è solo l'Ucraina c'è veramente l'Indo Pacifico l'Africa c'è il tema della Cyber Security ci sono tantissime questioni io qui una serie di eh anche in vista di Washington abbiamo approvato una serie di 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 iniziative di carattere parlamentare che poi dovrebbero essere fatte in nostre in ogni Parlamento nazionale che riguardano proprio il tema della difesa in termini concreti cioè come tema del della dei missili dei droni il tema della della difesa delle acque il tema della cioè del ma cioè abbiamo approvato una serie di documenti che magari farò avere all'associazione e farò avere anche che eh sono molto concreti e che prevedono investimenti enormi da parte di tutti i paesi della Nato ma insomma ecco io torno al tema centrale nel nostro paese è difficoltoso parlare perché è lo dico da insomma perché probabilmente siamo qui a due passi abbiamo la città del Vaticano in passata abbiamo avuto un forte partito comunista che è stato sempre no eh non è stato molto propenso sempre nel nel eh dare una mano al settore degli investimenti un partito radicale che cioè ricordo nella nella prima repubblica non era facile parlare di ammodernamento dell'esercito ma insomma è venuto il momento però di farlo e di farlo con coraggio a a testa alta e affrontando anche nelle aule parlamentari il tema della difesa questa è la nostra funzione a livello di delegazione che partecipa ai lavori della Nato se vogliamo anche avere un peso maggiore all'interno dalle istituzioni internazionali bisogna farlo bisogna raggiungere traguardare gli obiettivi che ci chiedono di essere traguardati e dare un sostegno ma nell'interesse nostro l'interesse del nostro paese che è modernare il nostro esercito a volte io nell'ultimo incontro che ho avuto con i colleghi a Sofia ho chiesto ma vi faccio una domanda no a qualcuno che era un po di qualche movimento ma io se in Italia gli Stati Uniti gli americani decidessero di chiudere le nostre basi le loro basi no se la Nato decidesse di chiudere le basi nel nostro paese se noi fossimo fuori da Nato quando spenderemo quando dovremmo spendere per attrezzarci autonomamente per poter difendere un paese come l'Italia ponete poniamoci tutti questo problema diamoci una risposta e vedrete che non sarà l'uno virgola ma dovremmo fare esattamente come fanno altri paesi che noi abbiamo abbiamo l'elenco di quanto spendono i paesi dovremmo arrivare al 6 5 6 7 percetto del nostro prodotto interno lordo da spendere nel settore della difesa quindi noi dobbiamo solo che essere dentro questi organismi ma rispettare anche gli impegni che ci vengono chiesti da questi organismi come ripeto avendo eh usando l'arma della verità cioè e facendo affrontando affrontando anche il Parlamento queste questioni a parlando un linguaggio di verità questo è il ruolo che noi svolgiamo eh come assemblea come delegazione italiana presso l'assemblea della Nato che come rivedo ha veramente sfide enormi da affrontare cioè oggi davvero quel che sta succedendo in Ucraina abbiamo un documento che sarà portato all'attenzione di Washington molto preciso perché diciamocelo chiaramente se avessimo tutti rispettato gli impegni presi con l'Ucraina non ci saremmo non ci troveremmo in questa situazione non ci e noi non possiamo permettere ai russi di avanzare ancora un millimetro perché altrimenti sarebbe per la per la Nato una sconfitta per l'Occidente una sconfitta ma soprattutto per l'Europa poi abbiamo il tema dell'Europa ci sono state delle elezioni eh speriamo che presto ci saranno gli essetti in Europa ma anche l'Europa deve porsi il problema di come attrezzarsi sul piano della difesa e deve fare un lavoro di coordinamento cosa che sta avvenendo ma deve rafforzarsi almeno questo lavoro in Europa eh se vogliamo veramente avere maggiore peso anche rispetto e questo lo dobbiamo anche a a chi sono stato a Washington negli incontri veniamo accusati sempre no eh gli Stati Uniti spendono molto di più di quanto non faccia l'Europa devo dire che negli ultimi anni anche l'Europa è intervenuta in maniera maniera più forte rispetto al tema della difesa ma bisogna che davvero quel che si è detto anche in campagna elettorale che è il tema della di istituire un commissario ad hoc per la difesa diventi una realtà e che questo è che almeno si faccia un maggior lavoro di raccordo tra tutti i paesi europei per costruire per arrivare a costruire un esercito un esercito europeo almeno un coordinamento degli eserciti dei vari paesi europei che sia più efficace e che eh dia un contributo maggiore alla Nato perché non è che si vuole fare anzi gli Stati Uniti ci chiedono maggior impegno e quindi non possiamo che adeguare eh questo lavoro quindi l'auspicio è che anche a livello europeo si cambi verso e che si vada verso veramente quello che si è da molti da molti partiti annunciato che è la creazione di un commissario ad hoc per la difesa europea e eh fare un passo in avanti e penso che l'Italia debba contribuire fortemente a questo passaggio perché ritengo che sia anche un altro passaggio molto molto importante ecco io ringrazio poi non so sono qui anche per qualche domanda insomma insomma io ho una serie di documenti che abbiamo elaborato a V-News in vista di Washington che sono molto dettagliati e concreti e che riguardano aspetti precisi di quel che bisogna fare anche in termini di armamenti di adeguamento del eh io sentivo attentamente generare quello che ci ha detto di di quel che bisogna fare per portare il nostro esercito eh non solo italiano ma anche a livello di Nato a efficientare maggiormente creando maggiore sinergie tra tutti quindi grazie davvero ringrazio l'onorevole Cesa lui ha posto il tema del 2% che è appunto la grande pressione americana ma anche come ha posto in risalto un altro aspetto cioè il nostro contributo alle missioni internazionali che è sempre stato fatto dalle forze armate con dei livelli quantitativi e qualitativi al massimo nell'interno della Nato noi in Afghanistan abbiamo a lungo espresso il secondo contingente dopo quello statunitense eppure il sistema paese non ha saputo trasformare questo impegno in un risultato politico e diplomatico quindi c'è una sorta di discrasia tra le varie componenti del paese che spesso si vede in altre questioni della difesa ecco lui anche ha presentato il tema di Washington Washington il vertice della Nato che ci sarà all'inizio di luglio è un momento chiaro perché tutti si aspettano che tra il G7 pugliese ormai alle porte e quello di Washington si decida tantissimo soprattutto sulle sorti del conflitto ucraino anche perché dopo Washington il presidente statunitense sarà di fatto scaduto e noi non sappiamo se il prossimo presidente crederà o meno della Nato non dimentichiamoci che la Nato nel giorno della rinagata a Kabul era data per finita scomparsa poi all'indomani dell'invasione ucraina è tornata a essere un valore fondamentale cosa che credo sia più o meno indispensabile lascio la parola a Gianandria Gagliani che come ho detto su queste materie ha una componenza infinita grazie 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 Gianluca per le belle parole che hai voluto rivolgere al lavoro mio a quello di analisi difesa grazie all'In Campus al centro studio di Machiavelli a tutti voi se noi guardiamo tu Gianluca hai elencato un po' i conflitti che stiamo vivendo in questa epoca allora direi che prendendo ad esempio questi noi non possiamo dire che dobbiamo prepararci a un conflitto convenzionale su vasta scala come quello in Ucraina o meglio dobbiamo prepararci a quello ma anche a continuare a essere preparati a conflitti asimmetrici come Iuti come Gaza io ad esempio sono convinto se mi sbaglio sarò contento che la prossima guerra che dovremo combattere noi europei sarà più simile a Gaza che non ai campi di battaglia di Bakhmut ma è un parere personale e se mi sbaglio sarò estremamente contento di offrire davvero a tutti ma dobbiamo però credo anche essere un po' pragmatici pragmatici perché perché se noi ci dimentichiamo facciamo un salto politico ma anche concettuale che però non tiene conto a mio parere della realtà che viviamo un'Europa che ha sempre fatto fatica a investire molto sulla difesa quando eravamo in boom economico e prima di questa guerra in Ucraina noi eravamo un boom economico perché eravamo la principale potenza economica del mondo a PIL noi Unione Europea grazie all'energia buon mercato della Russia. Oggi non è più così allora l'idea di produrre carri armati, droni, missili, farlo in recessione economica, farlo quando non produciamo più acciaio. La Turchia ha superato la Germania nella produzione di acciaio. La storia ci insegna che nessuna potenza militare non solo militare ma in particolare militare mai potuta esistere senza avere una produzione di acciaio. Produciamo quello che serve per produrre esplosivi militari? No! Ci siamo preoccupati di prepararci a produrle queste cose perché attenzione io sulla Nato ho ovviamente un parere un po' più, un po' meno, non posso dire un po' più distaccato del suo, voglio dire distaccato, perché in fondo quanti anni è che parliamo di prepararci a un conflitto con la Russia dopo e dal 2014, no? Da quando c'è stato il colpo di stato, la rivoluzione del Maidan. Beh non è che da in questi dieci anni abbiamo detto beh cominciamo a investire, cominciamo a produrre carri armati, cominciamo a costruire stabilimenti che possano produrre quello che serve per la realizzazione di esplosivi, per i missili, per i proiettili, ma non l'abbiamo fatto neanche quando è cominciata la guerra in Ucraina. Quando i russi passano il confine, a torto o a ragione, noi abbiamo continuato a dire vabbè adesso aiutiamo gli ucraini, ma non abbiamo detto alle aziende raddoppiare la produzione, ecco i soldi per la commessa, ecco i soldi per il nuovo stabilimento. Qualcuno ad esempio in Germania ha cominciato a farlo nell'ultimo anno. Allora io dico guardiamo un po' le cose pragmaticamente, se il Ministero della Difesa tedesco mi dice che negli ultimi due anni l'esercito tedesco ha svuotato i magazzini di munizioni per rifornire gli ucraini, e i tedeschi non erano quelli messi peggio in Europa a munizioni, anche i francesi, e poi mi dice lo stesso Ministero che per ripianare queste riserve ci vorranno 40 miliardi di euro, io guardo il bilancio della difesa tedesco, che quest'anno, ha raggiunto la cifra regola, attenzione, quest'anno l'unico Ministero tedesco che ha avuto un aumento di budget è stato quello della difesa, infatti a queste ultime elezioni il governo non ha avuto un grande successo, il governo tedesco. Quest'anno comunque la Germania spende 71 miliardi per l'intero complesso della difesa, beh allora se spendesse uno di questi miliardi per comprare munizioni d'artiglieria, facendo dei conti della spesa, fra 40 anni avrà ripristinato le riserve di munizioni d'artiglieria che aveva all'inizio della guerra in Ucraina, è una tempistica che possiamo accettare, e i tedeschi, devo dire, soprattutto sull'industria terrestre, credo che poi ne parleremo dopo, non mi pare che abbiano nulla da imparare, poi io credo proprio che dovremmo guardare la realtà dei fatti, proprio per non rischiare di venire abbagliati solo da degli slogan, perché è vero che questa guerra ci richiede uno sforzo finanziario, industriale, però attenzione, il SIPRI, l'Istituto di Stoccolma degli Studi della Pace, ci dice che negli ultimi anni le forniture, l'export militare Stato Unito in sé in Europa è aumentato del 17%, questa guerra ci sta portando un europeo a comprare sempre di più americano e sempre meno europeo, perché loro hanno scorte maggiori, perché riescono a rimpiazzare con il loro surplus alla seconda linea quello che a molti paesi della Nato, ex patto di Varsavia, hanno girato gli ucraini, e non è che la signora von der Leyen, perché la Presidente della Commissione ci può dire che noi europei siamo bravissimi perché adesso produrremo mille, forse 5 mila missili antieri Patriot, se diventiamo produttori su licenza dei missili americani, la nostra industria della difesa è finita come europei e quindi la nostra capacità di diventare, non dico una potenza come Europa, ma un soggetto strategico con il minimo di autonomia, perché se dipendiamo dalle produzioni su licenza, potevamo spingere altrove, magari sui Sampti, potevamo spingere su qualcosa che produciamo anche noi, ma quello lo fanno gli italiani e i francesi, e quindi i tedeschi hanno deciso che facciamo uno sky shield per tutti i paesi europei, ne hanno presi 13 con missili americani, israeliani e tedeschi. Allora voglio dire, è vero tutto quello che si è detto, però dobbiamo essere pragmatici, poi c'è una domanda che mi frulla in testa, tu lo sai perché ti ringrazio che mi legge Gianluca, ma ci siamo mai chiesti quando parliamo di guerra, a parte che, tu hai ricordato tante missioni all'estero, io ricordo i nostri dardo in Afghanistan, i talebani li chiamavano i carri neri degli italiani, perché ne abbiamo suonate tante, ti lo ricordi Giorgio? Ne abbiamo suonate tante i talebani. Ricordo che a Nasseria, io l'ho scritto, ne sono convinto anche oggi, se avessimo avuto agli ariete, ma non per sparare, solo per farli sferagliare sul lungo fiume e non li abbiamo mandati per ragioni politiche perché la missione doveva sembrare umanitaria, probabilmente le tre battaglie dei ponti non avremmo neanche dovuto combatterle, quindi la deterrenza ha un peso e l'aveva allora in una guerra non convenzionale, però oggi io credo che sulle missioni all'estero dobbiamo fare una riflessione, siamo andati tante volte in giro per il mondo perché ce l'hanno chiesto agli americani, a perseguire interessi che forse non erano del tutto nostri, oppure potevano essere considerati nostri all'interno di una coalizione che era guida angloamericana, però e continuiamo a farlo, con tutta la stima che io ho per le iniziative della Marina, mandare un gruppo navale dalle parti di Taiwan quando da anni chiediamo alla Nato una maggiore attenzione al fronte mediterraneo, al fianco sud e veniamo ignorati, tra l'altro, scusatemi a parentesi, non vorrei sembrare blasfemo, ma il fianco sud, quel saere di cui tu parli, l'abbiamo destabilizzato noi con la guerra contro la Libia del 2011, americani, francesi, inglesi e poi tutti a ruota a bombardare il cattivo nero di turno che allora era Gheddafi. Allora io dico, facciamoci anche un'altra domanda, per partecipare e per essere pronti a fare la guerra dobbiamo essere armati giustissimo perché dobbiamo essere pronti a tutto, se abbiamo scenari convenzionali e anche addirittura anche a simmetrici, ma quante perdite siamo disposti ad accettare? Perché qualche tempo fa è caduta Avdivka, uno delle roccaforti ucraine, quel giorno sono morti 1500 soldati ucraini e altri 1500 sono stati catturati perché erano feriti e non riuscivano a scappare. Se noi prendiamo questi numeri e ce li immaginiamo sulla prima pagina di Repubblica o di Le Monde o di Evelte, noi europei siamo pronti a questo, perché questo significa la guerra e questo. Allora io credo che dovremmo fare delle valutazioni sulla parte industriale. Qualche giorno fa al vertice di San Pietroburgo, con il forum economico russo, l'ex ministro dell'industria Manturov ha detto che in Russia ci sono 3,4 milioni di lavoratori che lavorano nel comparto difesa e nell'indotto. In Germania sono 130 mila, in Gran Bretagna 140 mila, in Italia molti meno. Poi puoi vedere i risultati anche delle analisi che vengono fatte in Occidente perché ovviamente le informazioni che vengono da Russia vanno prese con le molle perché c'è la guerra e quindi la propaganda lì come in Ucraina si spreca. L'industria russa riesce a produrre 4,5 milioni di munizioni di artiglieria all'anno e noi europei e americani 1,3. E loro gli costa anche un quarto di quello che costa a noi, forse perché ne producono di più, forse perché hanno energia a costo molto limitato, perché hanno tutte le materie prime che gli servono e noi siamo invece importatori di materie prime che non abbiamo. Quindi io credo che quando si parla di questi temi dobbiamo anche fare i conti con la capacità industriale, finanziaria, sociale di affrontare un tema come la guerra. Anche perché tutte le forze armate europee, anzi occidentali, e con occidentali partono dagli Stati Uniti, Canada, tutta l'Europa, Australia, Giappone, Nuova Zelanda. Quindi diciamo di cultura occidentale. Da diversi anni, ma il fenomeno si è accentuato negli ultimi due anni e mezzo, cioè con la guerra in Ucraina, il personale militare in servizio cerca di lasciare le forze armate. Va nell'industria, va altrove. E le forze armate fanno sempre più fatica a raccogliere numeri di arruolamento, a raggiungere i tetti di arruolamento previsti. La marina da noi è in più difficoltà, ma la Gran Bretagna ad esempio ha un numero di effettivi, incluse le riserve, che è il più basso dalla fine delle guerre napoleoniche. E questo problema è diffuso ovunque. Allora qualcuno dice, come in Germania, ho visto l'ultima direttiva del Ministero dell'Interno tedesco, dobbiamo in collaborazione con quella della difesa, in caso di guerra dobbiamo passare alla naia, alla leva. Qualche, forse due anni fa, abbiamo pubblicato sull'analisi di difesa uno studio interessantissimo, ancora oggi attualissimo, scritto da Giorgio Battisti, proprio sulla questione delle possibili istituzioni di una riserva, di una leva. E in quello studio si dice chiaramente, sì ok, richiamiamo il servizio, ripristiniamo la leva. Abbiamo le caserme dove ospitare questi ragazzi, abbiamo gli ospedali militari provinciali per le visite mediche, abbiamo le brande dove metterli a dormire, le uniformi, gli scarponi, le munizioni, i fucili, i poligoni di addestramento, che una volta erano distribuiti su scala regionale. Cioè queste strutture non ci sono più. Ripristinarle, non è che lo puoi fare, io mi rendo conto che per la politica è facile dire, vabbè, rifaccio la leva, la riserva, però in realtà dopo tanto che ne parliamo non si è fatto nulla, perché sono strutture che costano un sacco di soldi, che richiedono investimenti infrastrutturali, che nessuno pare abbia intenzione di fare, anche perché in questo momento in recessione, semplificando, c'è un popolo europeo che chiede burro, che un po' si è visto anche con le ultime elezioni, e non gli puoi rispondere cannoni, soprattutto se questo tipo di guerra a cui dovremmo prepararci viene elaborato sul piano politico strategico in termini di minaccia, ma non viene percepito dall'opinione pubblica come una minaccia imminente. Cioè nessuno al bar del mio paese, della bassa padana, ritiene che i russi siano le porte, né che gli uti stiano per sbarcare, né che Hamas possa colpirci, anche se forse qualche riflessione la dovremmo fare. Quindi è un contesto estremamente difficile in cui far passare un concetto non percepito dall'opinione pubblica, rischia di diventare un autogol per le leadership politiche, per i movimenti politici, per le forze armate, in un momento in cui le forze armate soffrono il minimo storico di appeal verso i giovani e anche verso chi è già dentro, questo vale anche per i giapponesi, vale che non hanno mai combattuto una guerra da quella che hanno perso nel 1945. Quindi su questo credo che dovremmo tutti riflettere prima di avventurarci in campi sui quali rischiamo di farci poi ancora più male, perché noi a guerra non siamo preparati e non ci stiamo preparando e se vogliamo essere pronti a farlo, allora questo è il momento in cui si può cominciare un percorso che presumibilmente ci potrebbe portare fra 5-10 anni a essere pronti a sostenere. Per sostenere questo processo, e concludo, alcuni recentemente il capo di Stato maggiore norvegese Christofferson, ma anche il ministro della difesa tedesco Christorius, sostengono che sia imminente entro 3-5-8 anni un attacco russo all'Europa. Io concludo con una battuta, se mi consentite, visto che il tema però è tragico. Se da un lato Biden e altri sostengono che i russi hanno avuto 350 mila morti, non si può al tempo stesso dire che sono pronti ad arrivare a Lisbona, perché se hanno avuto 350 mila morti faranno fatica solo a conquistare il Donbass e non credo potranno minacciare nessuno. Se invece abbiamo raccontato, insomma abbiamo gonfiato un po' le perdite russe per ragioni di propaganda che ovviamente in guerra riguardano tutti, allora potremmo fare altre valutazioni. Però io credo che su questi temi pragmaticamente dovremmo riflettere tutti. Grazie per l'attenzione.